ciao a tutti oggi prepareremo la bevanda snellente pancia piatta il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa gli ingredienti sono pompelmi rosa pelate al vivo lime pelate al vivo acqua radici di zenzero fresca e curcuma in polvere diamo il via la ricetta siamo la ricetta mettendo all'interno del boccale rompermi velate a vivo e lime velate al vivo e li facciamo frullare per un minuto a velocità 10 andiamo a mettere da parte senza lavare il boccale andiamo a riposizionarlo versiamo l'acqua la radice fresca dello zenzero la tagliamo a pezzetti e facciamo bollire il tutto per sette minuti 100 gradi velocità 1 adesso lasciamo intiepidire il nostro infuso dopo aver fatto intiepidire adesso andremo ad aggiungere il succo di lime e pompelmo rosa che avevamo precedentemente messo da parte aggiungiamo la curcuma in polvere facciamo amalgamare per un minuto a velocità 3 la nostra bevanda è pronta andiamola a filtrare con un collino a maglie strette bevanda snellente pancia piatta può essere bevuta calda a temperatura ambiente o fredda di frigo si conserva in frigo per 2-3 giorni e può essere addolcita con un cucchiaino di miele grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti